Lei quando è che ha cominciato a collaborare con la giustizia? Io nel 1990, comunque due anni fa, due anni, due anni e mezzo fa così. Lei ha confessato tutti i delitti che ha commesso, vero? Sì, sì. Tutti? Tutti. C'è qualcuno che non mi ricorda, lo confesserò dopo. Signore, silenzio!